Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 22 dicembre 2023. Mentre il conflitto russo-ucraino sembra aver preso una piega ben precisa, riconosciuto ormai urbi e torbi anche dei principali mezzi di comunicazione occidentali, la guerra in terra santa prosegue senza lasciar trasparire ancora il tipo di scenario a cui approderà. Proviamo a ragionare su tutto questo assieme a Flavio Piero Cuniberto che è un docente di estetica presso l'Università di Perugia e saggista, autore di numerosi volumi tra cui La foresta incantata, patologia della Germania moderna pubblicato da Quadlibet nel 2010, Germania e taccuini di viaggio pubblicato da Morlacchi nel 2011 e strategie imperiali America, Germania e Europa edito da Quadlibet nel 2019. Io Flavio ti ringrazio anzitutto per la disponibilità. Grazie a te Giacomo dell'invito e dell'occasione che mi offre. Io voglio auguri di buone feste e un saluto a chi ci sta soltando. Ma certo. Ecco. Grazie a voi. Lo scorso 20 dicembre l'autorevole quotidiano Bloomberg si chiedeva apertamente cosa accadrebbe se la Russia vincesse la guerra, ricondoscendo non troppo implicitamente che le cose sul campo di battaglia non stanno volgendo a favore dell'Ucraina e dei suoi sponsor occidentali e ipotizzando tuttavia scenari letteralmente apocalittici. Con l'Ucraina in rovina e il sostegno degli alleati sempre più precario sostiene la testata, c'è il rischio che la Russia occupi militarmente l'intera Ucraina con conseguenze drammatiche per la Nato. Tu condividi questo punto di vista? Allora, è che l'affidazione sta, non dico precipitando, ma si sta evolvendo con molta rapidità. Io mi permetterei di tornare a quella che è, come tu sai, probabilmente la mia idea fissa, anche se è un'idea fissa che forse aiuta a capire alcune incongruenze anche sul piano della comunicazione, se non della strategia in senso stretto. Incongruenze a cui in qualche modo accennavi anche tu, cioè da una parte la missione è sempre più esplicita anche da parte dei media e delle agenzie occidentali di una sconfitta, insomma, che si sta profilando e dall'altra le nuove infiammate dichiarazioni antirusse anche di questi ultimi giorni, insomma, comprese le dichiarazioni di Scholz, eccetera. Allora, la mia idea fissa, per chiamarla così, sì, ma in qualche modo è fissa ma ponderata, è che, come tu sai, il primo scopo strategico della guerra per la NATO e per gli Stati Uniti non era, ovviamente non è tuttora, meno che mai, si dirà alla luce delle ultime cose, degli ultimi eventi, la disintegrazione territoriale della Russia, tipo Vestfalia 1648, che si è molto parlato di questo, ci sono viste anche cartine, come ben sai, a Vestfalia ci fu lo smembramento del Sacro Romano Impero, sostanzialmente della Germania nell'epoca, insomma, in una galassia di Straterelli, e va bene. E qualcuno del genere in effetti si è saputo anche rispetto al fronte russo, può essere sicuramente che Brezinski, per esempio, noto esponente, insomma, vecchio esponente della frazione Neocon, abbia pensato un'ipotesi di questo genere, no? Parlava di una divisione della Russia in cinque, mi pare, sotto Tati, sotto Tati, ecco. Quindi questo è senz'altro possibile. Però non credo che l'obiettivo primario della fase attuale, chiamiamola così, quella che inizia con l'operazione militare, con il febbraio del 22, ma appunto nella prospettiva della Nato, che l'obiettivo primario fosse e sia quello appunto di rintegrare quello che viene anche chiamato l'impero, oggi c'è questo discorso sull'impero, sull'impero, persino il nostro capo dello Stato, no? Ha bollato. Vabbè, passiamo oltre. Credo che l'obiettivo primario fosse sia tuttora quello di, diciamolo in parole povere, di creare una nuova cortina di ferro, sostanzialmente, spostata ovviamente a est, cioè dal Baltico al Mar Nero, ecco, di spezzare, possibilmente in via definitiva, poi non c'è niente di definitivo, ma di spezzare una volta per tutte, diciamo, la cooperazione economico-energetica, chiamiamola così, non è solo questo, ma anzitutto economico-energetica tra Russia ed Europa e più precisamente tra Mosca e Berlino, insomma, questo rapporto speciale che negli ultimi tempi in forma più sotterranea e più scorbutica in realtà c'è sempre stato, sempre stato dopo l'89 intendo, in qualche misura anche prima. Cellula pericolosa di una pericolosissima Eurasia, appunto, economico-energetica, ma non solo, la cui attuazione avrebbe accelerato in modo, si pensa molto rapido, il declino americano. Ecco, in che senso parlo di uno scopo primario? Nuova cortina di ferro, mettere una zeppa proprio, mettere un muro, nuovo muro sostanzialmente. Ora, questo scopo poteva e può essere raggiunto, io credo, anche al prezzo di una sconfitta militare, almeno temporanea, per questo parlavo di una fase, cioè quella appunto che si profila, ma a condizione di coinvolgere tutta l'Europa in una infattica corsa agli aiuti, sanzioni, anche sul piano della mentalità, insomma, di eliminare anche mentalmente e culturalmente lo spazio russo, diciamo così, dall'idea di Europa, ecco, perché è una questione che vale, che si ritrova a diversi livelli. Ecco, se questo è l'obiettivo primario, che non esclude altri obiettivi, intendiamoci, però la pensavo così già un anno fa, ma in realtà penso che le cose non siano cambiate. Se questo era l'obiettivo primario, si può dire che sia stato raggiunto anche nello scenario che tu accennavi prima, cioè di una sconfitta militare che potrebbe andare addirittura oltre le peggiori previsioni dal punto di vista della Nato. In questo caso, nel caso a cui accennavi di una Russia particolarmente aggressiva, in grado di occupare territorialmente tutta l'Ucraina, eccetera, in questo caso si aprirebbe una seconda fase, direi, del conflitto. Non pretendo, insomma, di proporre schemi rigidi, però parlerei di una seconda fase, cioè è possibile che la seconda fase vada nel senso che tu dicevi, ma la prima fase in qualche modo la vedrei, se non proprio conclusa, avviata. Ci sono molti sintomi di questo, al teso aumento verso Zelensky, in fondo stanno cercando di scaricarlo, le voci di negoziati che sicuramente in forma sotterranea ci sono. E perché questa prima fase si avvia a conclusione? La mia idea fissa è che in qualche modo l'obiettivo che la Nato si proponeva è stato raggiunto, poi si vedrà che cosa potrà succedere. Ma insisterei su questo primo aspetto, anche perché è quello che ha le conseguenze ovviamente più massicce e più devastanti per l'Europa, insomma. Questo è chiaro. Sì, 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 su questo sono, diciamo, sono in molti a parlare questa ipotesi. Il fatto intanto che l'Occidente ci sono vari anime e c'è qualcuno che vince e qualcuno che perde. Noi indubbiamente siamo tra quelli che perdono sia in un'ottica di breve che di lungo termine, però voglio aiutarti a riflettere su una cosa. Cioè, sì, diciamo che il taglio della la recisione dell'arteria energetica, ma anche la cooperazione a tutto tondo tra la Russia e l'Europa è un obiettivo che gli Stati Uniti, perlomeno in un'ottica di medio periodo, possono considerare raggiunto. Tu dici giustamente anche al prezzo di una sconfitta militare. Il problema è che, mi viene da pensare, il problema è che una sconfitta militare della Nato sul territorio ucraino, perché parliamoci chiaro, loro la possono presentare come vogliono, possono esistere quanto vogliono che sia una guerra tra Ucraina e Russia, in realtà il mondo la vede come una guerra tra la Nato e la Russia. E' una sconfitta militare sul campo di battaglia con la Russia, che tiene testa da un punto di vista bellico, politico ed anche economico, perché la resistenza alle sanzioni è stata un dato di fatto, incrina la deterrenza della Nato, viola, intacca la sua immagine di invulnerabilità che si era costruita nel corso degli anni e va a sovrapporsi, peraltro, a un smacco precedente che ormai pochi si ricordano che è l'ignominiosa di partita degli Stati Uniti dall'Afghanistan. Certo. Tu non credi che questi continui rovesci non portino il resto del mondo, non fungano da catalizzatore per una riorganizzazione del resto del mondo in una maniera sempre più distaccata, se non ostile, dall'Occidente? Dovendo rispondere in modo secco direi sicuramente sì. Cioè, stanno andando in quella direzione. I fattori sono molteplici, quello che hai delineato non è un fattore secondario, perché in effetti tu dici la Nato ne esce con le ossa rotte, con le ossa rotte sul campo, ma anche appunto sul piano dell'immagine, sul piano dell'immagine della credibilità internazionale, della sua capacità di deterrenza. Quindi sicuramente è come dici. Come sempre gli scenari non sono solo diversi perché ci sono vari scenari possibili, sono anche incastrati l'uno nell'altro, cioè ci sono diversi livelli di scenari, insomma, queste sono cose che conosci molto meglio e tu di me. Perché dico questo? Perché a un livello più globale le cose sicuramente vanno in questa direzione, cioè quella che io ho chiamato, non l'ho chiamato un obiettivo raggiunto al prezzo di una sconfitta, riguardo uno scenario che in fondo è ancora locale, è lo scenario di fatto della faglia euro-russa, chiamiamolo così, locale fino a un certo punto. In una prospettiva più globale, cioè considerando quello che sta succedendo, insomma, nelle altre aree del mondo, a cominciare dal mondo aramo, per non arrivare al medio estremo oriente, sicuramente le cose vanno nella direzione che dici tu, cioè questo obiettivo raggiunto è un obiettivo che però comunque nel breve medio termine non rallenterà, diciamo così, il declino americano. Nello stesso tempo credo che questo obiettivo fosse rinunciabile, per i motivi che in parte ho accennato, ma si potrebbero approfondire molto di più e tornando all'idea fissa, cioè che l'ascesa della Germania dopo l'89, se non voglio così, insomma, rifriggere cose notissime, però è davvero una fase storica che andrebbe valutata con attenzione estrema. Questa è un po' una digressione fino a un certo punto, nel senso che questa ascesa della Germania, la rinificazione fondamentalmente, che poi a partire dai primi anni del nuovo secolo si combina con l'ascesa irresistibile della Cina, con la ripresa economica della Russia nazarista, determinando uno spostamento direi tettonico proprio del baricentro tedesco sostanzialmente e dell'area di influenza tedesca della Mitteleuropa, insomma, verso est. Ecco, questa ascesa ha rappresentato la vera bestia nera delle amministrazioni americane, più ancora, osso dire, della Cina. È chiaro che la Cina sarà il protagonista con la Russia, forse, dei decenni che verranno, non lo sappiamo, ma tornando appunto ai trent'anni che abbiamo alle spalle, cioè al trentennio 1990-2020, io credo che la bestia nera fosse essenzialmente questa, tanto più che, e questa è ancora una digressione, ma rispetto alla tua domanda, ma fino a un certo punto, fino a un certo punto. La rinificazione tedesca dell'89-90, al di là dello sconquasso, diciamo così, geopolitico globale che ha provocato, ha fatto saltare la vecchia comunità europea. Quindi anche il discorso sull'Europa deve tener conto di questa scansione. Qui il discorso si farebbe anche un po' lungo, perché è chiaro l'iniezione e beh, ma Maastricht viene subito dopo. Già, certo, perché la logica è stata quella del lascio raddoppia, sostanzialmente. L'Europa in quel momento aveva due possibilità. L'Europa, parlo dei leader, della leadership europeista, di quella che Caraccio la chiama l'Europa con l'articolo, è quella di prendere atto del proprio fallimento rispetto al progetto originario. È saltato, è saltato perché il progetto originario comportava un sostanziale, un accordo di sostanziale equilibrio tra ex potenze, grosso modo comparabile anche dal punto di vista demografico, eccetera. Qui non prevedeva la Germania unita, c'è poco da fare. E questa riunificazione, con tutte le sue conseguenze anche a livello locale, ha fatto saltare il vecchio quadro. Maastricht è stato invece un tentativo di ostinato rilancio, cioè invece di tornare a forme, insomma, di accordo più blande, diciamo così, con Maastricht siamo entrati in questa fase vorticosa di forzata unificazione delle politiche, che però sappiamo dove ci sta portando. E questo è un punto che vorrei mettere in evidenza. E ecco, ribadendo quello che dicevo prima, insomma, che però l'obiettivo appunto di creare una nuova cortina di ferro, di spezzare definitivamente questo, chiamiamolo, questo legame storico, tutt'altro che recente, tra il mondo tedesco e il mondo russo, quindi l'Europa e la Russia, che questo obiettivo fosse davvero irrinunciabile. A qualunque costo, qualunque prezzo, beh, bisogna vedere. Questo non lo so, bisognerebbe conoscere più da vicino il punto di vista del, insomma, di chi tiene le fila a Washington, perché in effetti quella che è un po', dallo scenario che descrivevi prima, diciamo così, in ballo, è il futuro dell'Europa stessa, che appunto in presenza di una Russia più aggressiva, di nuove crisi internazionali, di un'eventuale crisi Taiwan, eccetera, potrebbe appunto... anzitutto sì, implodere come organizzazione, questo non è difficile prevederlo, e soprattutto perdere peso sotto ogni punto di vista, al punto magari da, insomma, da cambiare area geopolitica. ma senza fare tanta politica, il punto sul quale non si può, credo, avere troppe, troppe, troppe complessità, è l'indebolimento. Cioè comunque vadano le cose, l'indebolimento non solo economico dell'Europa, a cominciare da Germania, ma noi siamo poi le vittime sacrificali più esposte, è fuori discussione. È fuori discussione, poi è chiaro, come dicevi tu, noi siamo i primi, cioè siamo gli ultimi, siamo quelli che pagano di più. È chiaro che il prezzo non sarà uguale per tutti. No, sarà un prezzo diverso per ciascuno. E probabilmente la Germania riuscirà in qualche modo a pagare un prezzo forse meno alto, ma lo paga, lo sta già pagando, cioè l'invasione di tendenza ormai è già avvenuta e non è facile prevedere che lo scenario cambia a suo favore nei prossimi anni. Qui semmai sarebbe interessante venire alla domanda che facevi prima, e cioè sulle ragioni profonde di questo declino, ma prima ancora di questo atteggiamento rinunciatario, di questa paralisi si potrebbe dire, che non è soltanto una paralisi politica, lo è, è chiaro, ma è una paralisi comunque anche a livello politico, io credo, preparata con molta meticolosità dall'amministrazione americana. E qui torno al discorso di prima, bestia nera. Forse ce ne stiamo accorgendo adesso, il sabotaggio dell'oleodotto è chiaro, ha rappresentato così un evento clamoroso, ma l'infiltrazione, chiamiamola pure così, della politica dei media tedeschi, da Pase e gli apparati americani va avanti da decenni, e con una metodicità che, almeno giudicare alcuni sintomi, mi sembra davvero impressionante. Vabbè, adesso il tempo non ce lo permette, non è forse nemmeno così interessante, ma potrebbero citare degli episodi, cioè episodi singoli, ma interessanti, di come per esempio alcuni medi tedeschi siano passati sotto controllo, diciamo così, molto banalmente, sotto controllo americano, insomma, per esempio nel primo decennio del secolo. Faccio un riferimento preciso, lo Spiegel, lo Spiegel era, è tuttora una settimanale di grande successo, di grande storia. Sarebbe interessante leggere la vicenda dello Spiegel, non negli anni recenti, ma nel primo decennio del secolo. Per alcuni anni lo Spiegel, der Spiegel, ha portato avanti, io non ho contatti diretti, insomma, ne parlo da lettore, e ha portato avanti una linea che, appunto, rispecchiava molto fedelmente, linea freudel potrebbe dire, questo nuovo orgoglio tedesco, diciamo così, spingendosi fino ad atteggiamenti di vera e propria sfida nei confronti dell'impero americano. Ci fu una serie molto bella, perché insomma molto ricca anche di interventi da parte di storici e studiosi vari, sul declino dei grandi imperi, ma era chiaramente un discorso rivolto del clino americano. Io questa serie ce l'ho, insomma, l'ho letta, ed era, mi incurusiva anche proprio, direi, il coraggio mediatico. Quasi da un giorno all'altro questa linea si è bloccata. Si è bloccata e, insomma, lo Spiegel si è addomestichato, insomma, è diventata una testata, probabilmente di un certo livello sempre, ma, insomma, sono riusciti ad addomesticarla. Ecco, in poche parole, con molta abilità, è chiaro, dando un colpo al cerchio e un colpo alla botte, questo è evidente. Ma quella fase lì è una fase che si è chiusa e si è chiusa probabilmente per l'ottimo lavoro dei servizi. Si può immaginare che una cosa simile possa essere avvenuta a livello politico. Beh, le ultime elezioni lo hanno dimostrato. Però, appunto, il discorso andrebbe ampliato nel senso di prima. Che cosa succede alla Germania e nella testa dei tedeschi, a un certo punto? Non so se al cavo di toccarlo qui. Vai, vai, perché è cruciale. No, sì, è cruciale, è cruciale, ma non ho una risposta, cioè non ho neanche un'idea fissa in questo caso, o meno di un'idea fissa, o qualche, sì, molte riflessioni senz'altro. Che cosa succede alla Germania? Sì, è quello che mi chiedo anch'io da tempo. Anche perché, e forse questa è già, così, una possibile parziale risposta, è la crisi non è soltanto politica o politico-economica. Credo che sia una crisi culturale e più esattamente una crisi di identità. Devi d'identità, direi, paradossalmente sollecitata proprio dalle prospettive, in qualche modo entusiasmanti, che si sono aperte la Germania dopo l'unificazione e dopo le difficoltà dei primi anni, perché si sa che i primi anni sono stati difficili, i nuovi lender hanno richiesto uno sforzo economico enorme, eccetera, eccetera. Però, fino a una certa data, che, ecco, non indico perché non c'è, ma insomma, fino a un certo punto, negli anni dell'era Merkel, sostanzialmente, si avversiva anche proprio nell'aria, insomma, questo nuovo orgoglio tedesco, chiamiamolo così. Ha avuto molte manifestazioni, molte manifestazioni di vario genere, che qui non riassumo perché, insomma, anche appunto quella serie dello Spiegel fa parte, in qualche modo, di questo momento storico. Però, paradossalmente, proprio l'aprirsi di questo scenario, che era lo scenario di una Germania unificata, una Germania che cammina sulle sue gambe, questa è un'immagine usata anche dalla Merkel, a suo tempo, parlando dell'Europa, ma intendeva soprattutto la Germania. Questo scenario, per certi aspetti entusiasmante, che alcuni hanno vissuto con entusiasmo, ha riaperto l'eterna Deutsche Frage, cioè chi siamo, dove vogliamo andare, eccetera, o per usare un'impressione che è stata anche usata, politologi, noti, eccetera, ha reso tremendamente acuta la domanda se i tedeschi vogliono o no, a Germania vogliono rientrare nella storia, perché certamente dal 45 all'89 ha vissuto sotto una campana di vetro, sostanzialmente. E questo è un dato di fatto che però fulverisce un'altra linea di riflessione, cioè vivere per 45 anni sotto una campana di vetro sono due generazioni. Beh, insomma, è un'esperienza che non può non lasciare tracce. E non parlo neanche delle tracce indelebili probabilmente lasciate dalla guerra, perché anche questo sarebbe un altro argomento, su cui sono usciti anche libri interessanti, libri di Sebald, per esempio, sulla distruzione della Germania. Si incomincia a parlarne, però, insomma, al di là di questo, è difficile pensare che una devastazione a tutto campo, come quella che la Germania ha subito dall'alto, il terror bombing, in quegli anni possa essere riassorbita, non dico facilmente, ma possa essere riassorbita, che possa non lasciare tracce in qualche modo indelebile. Anche solo sul piano della, dovrei usare termini un po' banali, sì, dell'autoimmagine in qualche modo. E qui si scende un po' negli abissi della psiche umana e della psiche collettiva, perché qui entra in gioco anche quella che in tedesco chiamano la schulfrage, cioè il fatto della Germania per decenni e tutt'ora, insomma, viene inchiodata la colpa della Shoah, no? Non sappiamo. Beh, questo inchiodamento che è stato poi assunto, beh, quasi coralmente da tutte le forze politiche o quasi, insomma, tedesche, questo inchiodamento è penetrato a fondo nella coscienza tedesca. Bisogna vedere fino a che punto, questo io non saprei dirlo, però certo costituisce un elemento di, ecco, non direi di paralisi in senso, cioè, immediato, ma un elemento di forte imbarazzo. E quindi, per non farla troppo lunga, è come se alla domanda, vogliamo o non vogliamo rientrare nella storia, e cioè, appunto, uscire dalla campana di vetro e prendere coscienza, no? Operativamente di quello che siamo, delle nostre dimensioni, dell'area di influenza, perché poi è questo il punto geopolitico fondamentale, di questa mente l'Europa che, comunque, a cominciare dal Veneto, guarda la Germania, ecco, a questa domanda probabilmente la Germania, la Germania intesa come soggetto mitico a questo punto, come soggetto collettivo, Germania profonda o chiamiamola come vogliamo, ha cominciato a rispondere di no, in sostanza, cioè c'è una, io vedo, e anche da altri fenomeni, anche fenomeni, diciamo così, certamente culturali e linguistici, per esempio, la lingua tedesca ha avuto una ripresa interessante, appunto, in quegli anni lì, nel senso che nascevano scuole di tedesco, il tedesco sarà una lingua importante, eccetera, adesso è in declino, in declino lo vedo anche in campo universitario, sono sempre meno gli studenti che lo studiano, perché? Perché i tedeschi sanno l'inglese, che va a lavorare in Germania, parla inglese e se la cava benissimo. La lingua tedesca e quindi tutto quello che, in qualche modo, attinge a questa linfa, anche la letteratura, se vogliamo, non parliamo delle scienze fisico-matematiche, ma, appunto, la letteratura, per esempio, è in declino, perché è in declino la lingua, e la lingua è in declino anche proprio dal punto di vista linguistico, me ne sono accorto come traduttore, insomma, per avere importato e per importare continuamente pezzi di lessico non tedesco, un fenomeno che si potrebbe chiamare imbarbarimento, nel senso greco delle parole, ma l'ho anche un po' studiato questo fenomeno, non ho scritto nulla, per ora però comunque ho una specie di documentazione abbastanza impressionante, perché sembra che i tedeschi non se ne rendono conto. Ho colto proprio questa strana, diciamo indifferenza, rispetto a quello che, dal mio punto di vista, come traduttore, come persone interessate alle cose tedesche, appare invece un fenomeno vistoso, che appaia vistoso a me e che, come dire, il senso comune tedesco, sto parlando anche di persone di alta cultura, intendiamoci, non se ne renda conto, potrei anche dimostrare come, cioè cadendo in trappole, curiose, eccetera, beh, fa veramente pensare, cioè fa pensare che questa criva di identità, come l'ho chiamata veramente prima, si sia, diciamo così, riaperta a un livello molto profondo, ecco, anche in corso, anche in corso. Sì, è interessante notare come mentre, per esempio, Cina e Russia riscoprono, alcuni non le hanno mai, cioè non le hanno mai cancellate, ma riscoprono le proprie radici profonde, la Cina, il confucianesimo, il taoismo, la Russia, l'ortodossia e quindi questo funge da argine proprio per resistere a questa ondata di globalizzazione che mira ad eradicare le radici di ogni singola, all'uniformare tutto il mondo e quindi a radicare le radici. I tedeschi contribuiscono attivamente senza rendersene conto a questo sforzo di uniformazione totalizzante e quindi in qualche maniera contribuiscono ad annullare o quantomeno ridimensionare la portata colossale della loro cultura. Assolutamente così. Sì, la cosa è tanto più evidente se la si mette a confronto con con questo recupero russo-cinese delle tradizioni profonde e così avviene a un livello inconscio questo processo. È un processo di svuotamento davvero, che da un lato è favorito dall'esterno, si capisce, ma è accettato dall'interno con una strana passività, in effetti, le cui origini vanno cercate probabilmente nei grandi drambi del Novecento, insomma, per chiamarli così. Cioè è come se, è quello che ci diceva prima, anche a distanza di 80 anni ormai a Germania non si fosse mai veramente ripresa da questo trauma. Questa tendenza a parlare della questione tedesca in termini di trauma, in termini di patologia, anche come ho fatto a suo tempo. È abbastanza diffusa tra i sociologi, per esempio, o anche tra i non sociologi. Ricordo, non amo molto citare Jung perché è un personaggio che non amo molto, però ricordo la sua intervista nei primissimi anni del dopoguerra, nel 1946-1947, in cui lui, ecco, si impancava un po' così a psichiatra, come dire, in questo caso della terapeuta dell'incorcio collettivo, no? Ecco, della famosa inconscio collettivo. E parlava della Germania come di un paese sotto shock, che aveva subito un, cioè, un paese che aveva, l'idea era questa, e come un, un terter, un assassino in questo caso, pensava ovviamente alla Shoah, il regime italiano, che ha commesso questo atto criminale in uno stato alterato di coscienza e che poi si riprende e non sa più chi è, cioè, e non riesce a fare i conti con il proprio passato recente. Questo non diceva nel 1946-1947, una cosa del genere. E credo che lì Jung avesse, al di là delle opportunità, delle convenienze del momento, credo che sostanzialmente avesse ragione, ma soprattutto credo che abbia ragione anche all'istante di 80 anni, cioè che qualcosa di quel trauma sia rimasto a livelli molto profondi. E questo aiuta forse un po' a capire la passività di cui parlavamo. Come se non dovessero più essere tedeschi sotto una certa politica. Esattamente, esattamente. L'importazione di tutti i plani della loro cultura. O anche per dire in altri termini, sì, infatti, perché non dovrebbero più essere tedeschi, perché i tedeschi hanno paura di se stessi. Io la direi anche in questa forma. Credo che sia abbastanza vero. Certo, la paura è l'altra faccia dell'orgoglio o dell'ambizione, se vuole, se vogliamo. E forse però, ecco, in questa prospettiva le cose si capiscono un po' meglio. Cioè, i scenari che si sono aperti dopo l'89 erano scenari positivi e entusiasmanti, ma forse anche troppo entusiasmanti. E entusiasmanti in forme che fatalmente riproponevano film già visti. Quindi la storia del quarto Reich, che poi è stata legata all'Unione Europea. Sì, insomma, vale quello che vale. Però, ecco, nell'inconscio tedesco, questa paura dei vecchi fantasmi, ecco, sicuramente ha agito e continua ad agire. La chiamerei così, appunto, la paura dei vecchi fantasmi. Ci sono forze politiche, culturali, ma di minoranza, che cercano di venirne a capo in modo un po' meno passivo, ma ho l'impressione che abbiano poca forza per modificare il quadro in modo sostanziale. Sì. Toccherà adesso l'ultimo punto, che è la questione dell'irrecrudescenza del conflitto israelo-palestinese. In Terra Santa ci troviamo dinnanzi a un conflitto che sembra non avere vie di sbocco, perché la soluzione a due stati, che è stata invocata da Russia, Cina e Stati Uniti sulla base degli accordi di Oslo, sconta all'ostilità incrollabile di Israele, che però rifiuta anche, in maniera addirittura più vigorosa, la creazione di uno stato unico, binazionale, basato sull'integrazione dei palestinesi. A tuo avviso, quale obiettivo sta perseguendo attualmente Israele e ritieni che esista una via d'uscita percorribile da questa intricatissima situazione. Certo, certo. È così intricata che è difficile abbassare una risposta. Riguardo agli obiettivi, è chiaro che questi obiettivi sono anzitutto al momento gli obiettivi di un preciso governo, il governo Netanyahu e della sua cricca, chiamiamola così, che è ancora al potere, ma i dissenzi interni sono molto forti. Quindi lo scenario potrebbe anche cambiare in rapporto a un'eventuale caduta o peggio, incriminazione, non lo so, comunque uscita di Fena, di Netanyahu e dei falchi, insomma, del suo governo. In questo caso potrebbero cambiare anche gli obiettivi. È chiaro che la crisi di Gaza, anche la crisi di Gaza, sta davvero creando una, aprendo una ferita che non sarà cicatrizzabile. Voglio dire, l'obiettivo dei due stati lo vedo ormai come un obiettivo sfumato, cioè non solo dal punto di vista israeliano, che potrebbe anche esserci appunto in un dopo Netanyahu eventuale, con un governo completamente diverso, una maggioranza che chissà, ne dubito, ma potrebbe anche esserci. Una maggioranza favorevole alla famosa soluzione dei due stati. Quello che non mi sembra verosimile è che questa soluzione possa essere accettata e praticabile da parte palestinese, cioè che cosa resterà tra l'altro di Gaza. No, sono molto pessimista da questo punto di vista. Penso molto per esempio a un aspetto della crisi, del massacro, eccetera, quando si dice, che è poi l'obiettivo dichiarato dal governo dell'israeliano, che appunto lo scopo dell'operazione militare è di esterpare Hamas in sostanza. Però Hamas insomma è ubiquo e questo in effetti spiega anche molte cose, cioè i bombardamenti discriminanti possono essere, in effetti come vengono presentati da Israele, come una brutale operazione volta a sradicare Hamas dovunque si trovi, quindi insomma se si rifugiano negli ospedali non ci importano i civili, buttiamo giù l'ospedale. Se si rifugiano in una chiesa non ci importa nella chiesa, buttiamo giù la chiesa. Però l'obiettivo sarebbe sradicare Hamas. A me, anche ammesso che questo obiettivo sia raggiungibile nell'immediato, non credo, ma comunque anche ammettendolo, la mia domanda è un'altra. Cioè il massacro che sta avvenendo a Gaza, da due mesi questa parte, due mesi e mezzo ormai, è così brutale, è così odioso, è così brutale, è così odioso che non si può immaginare una futura generazione di palestinesi disposti a venire a un accordo con Israele. Voglio dire, anche ammesso che gli attuali guerriglieri, chiamiamoli così militanti di Hamas, vengano eliminati, cancellati dalla faccia della terra. Per ogni guerrigliero ucciso ne nasceranno altri dieci. Questo mi sembra evidente, a meno di non sterminare l'intera popolazione, non lo so, o di evacuarla non in Egitto, ma nel Madagascar, sarebbe una diaspora alla rovescia. Cioè, anche ammettendo come verosimile nella sua brutalità l'obiettivo di Israele, cioè sradicare Hamas, credo che sia un obiettivo comunque illusorio, perché bisogna anche considerare le conseguenze psicologiche di questa operazione, che saranno quelle di moltiplicare l'odio anti-ebraico, almeno in campo palestinese. Perché certo, una delle questioni che probabilmente conosci molto bene, è l'atteggiamento attendista, diciamo, del mondo arabo. Perché gli altri paesi, ammesso che fossero stati chiamati in causa, ma è tutto da vedere, non hanno, diciamo così, mosso un dito. A parte quello che sta avvenendo nel Mar Rosso, ma lì c'è l'Iran, chiaramente, l'Iran che appoggia gli uti. Insomma, i paesi arabi in senso stretto non si sono mossi neanche. Ciò nonostante quello che sta avvenendo a Gaza non farà che, beh, compattare forse è troppo, ma favorire comunque un allontanamento, anche qui, ecco, del mondo arabo, dal blocco occidentale. Ecco, in un modo o nell'altro, con i palestinesi nella veste della vittima sacrificale, la direzione è quella. Rispetto alla sua domanda iniziale c'erano altre cose? Sì e no, ecco, un punto che mi sembra è importante accennare anche solo velocemente e che riprende un po' il discorso iniziale su quello che c'è di contingente, no? Cioè, l'operazione, la guerra in questo momento fa capo a una certa maggioranza politica, che poi non è neanche tanto maggioranza. Questa potrebbe cadere e le cose potrebbero cambiare. C'è però un elemento che non è decisivo, lo sarà a lungo termine, medio-lungo termine, ed è la spaccatura profonda del mondo ebraico. Cioè, questa spaccatura non è solo una spaccatura interna israele, nel senso, appunto, di una opposizione che se andasse al potere, eccetera, cambierebbe linea. È una spaccatura che riguarda anche il mondo della diaspora. Ecco, cioè, entrambi i polmoni, per così dire, del mondo ebraico. Il polmone territoriale, il micropolmone, per così dire, anche se è molto agguerrito. Cioè, Israele, Erez Israel, è il grande polmone della diaspora. Che tra l'altro sono, ecco, numericamente abbastanza equivalenti, tra l'altro. Parlo soprattutto delle comunità ebraiche americane, si capisce. E qui la spaccatura, che bisogna riconoscerla meglio, è ovvio, la spaccatura cede profonda. E rispetto proprio al... anche qui, non voglio fare dei paragoni così assurdi, ma con la Germania voglio dire, perché le cose sono molto diverse. Però anche qui, in profondo, c'è una questione che riguarda l'identità di Israele. Di Israele come popolo. E su questo il mondo ebraico è spaccato. È spaccato fra le due grandi, appunto, i polmoni che dicevo prima. Cioè, tra un sionismo oggi estremamente aggressivo, anzi così aggressivo che Prolenti si sta scavando la fossa, pro-Israele, nel senso della terra promessa, ecco, di biblica memoria, e un polmone diasporico che qui riassumo molto, perché la riflessione potrebbe essere molto più approfondita. Io credo, faccio riferimento ovviamente, appunto, ai grandi posentati finanziari, soprattutto alle comunità americane, questo polmone diasporico, per chiamarlo così, che è soprattutto americano, che è trovato soprattutto in America, lo sappiamo, la sua, la sua, la sua, per la promessa, tre virgolette, questo è il punto. Questo polmone probabilmente potrebbe continuare a vivere e forse a vivere meglio, anche senza Israele. E io non sono abbastanza informato sulle, sulle, sulle questioni interne, sulle discussioni interne a queste comunità, però è un'idea che sicuramente circola, circola e in alcuni casi anche si manifesta o si lascia, si lascia indovinare. Cioè è che, per una parte, che non saprei quantificare al momento, del mondo ebraico della diaspora, ecco, diciamo, dell'ebrismo americano, non solo, ma soprattutto americano, alla fine, per parlare chiaro, Israele e i suoi problemi, cioè il sionismo territoriale, insomma, di Chouve, sia, uso un'impressione un po' forte, quasi una palla al piede, è un'impressione molto forte, molti naturalmente così me la rifacerebbero, ma credo che siano in molti a pensarla così. In questo senso parlavo di una spaccatura davvero molto profonda, che poi all'esterno si vede meno, anzi si vede poco, non si vede quasi per nulla, ma c'è. E la crisi di Gaza, per chiamarla così, proprio per la brutalità con cui il sionismo territoriale, che mira in qualche modo alla grande Israele, diciamo così, anche qua di biblica memoria, è una biblica memoria molto abusata, perché poi con tutte le contraddizioni proprie di uno Stato che nasce laico, non confessionale, ma che poi però si richiama ai patriarchi per rivendicare quello che gli è stato promesso da un Dio in cui non crede più, cioè veramente di un sionismo territoriale. Allora la brutalità di questo sionismo territoriale rivolto alla grande Israele, la brutalità che sta dimostrando non potrà non nuocere, direi alla causa sionista come tale. Forse per il momento questo effetto non è molto percepibile, anche se sappiamo ci sono casi anche in Italia, insomma, di intellettuali che si sono dissociati, però una cosa è dissociarsi da Netanyahu, è un po' come il caso Berlusconi, se vogliamo, dissociarsi dal personaggio che potrebbe accadere domani in effetti. E una cosa invece è prendere le distanze, e penso che questo entro certi limiti avvenga, prendere le distanze dalla causa sionista come tale, in sostanza. E questo è un punto su cui Israele, inteso nella sua complessità, è davvero spaccato, io credo. E la privi di Gaza non può non aggravare, insomma, questo stato di divisione interna, in sostanza. Diciamo che abbiamo messo molta carne al fuoco, abbiamo una discussione molto, molto interessante, direi una delle migliori che io abbia affrontato quando ho aperto il canale. Io, Flavio, ti ringrazio di cuore, come per la disponibilità, spero che accetterai il mio prossimo invito, che ti farò sicuramente. Quindi ringraziarti ancora, colgo l'occasione per augurare a tutti, buona serata e buone feste. Anche te e a voi, grazie Giacomo. Grazie. 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 Grazie.